Gentili telespettatori, buona giornata. L'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di una quinta opzione contro il Covid. Quindi l'OMS dice non usciremo dalla pandemia breve e dobbiamo arrivare a limitare la circolazione del coronavirus. A parte i vaccini, dice che funzionano, ci vuole qualcosa in più. Qualcosa da aggiungere. I quattro modi per ventilare gli ambienti chiusi. Allo studio un tool per calcolare il rischio di infezione e un modello fisico per sviluppare gli standard di ventilazione negli ambienti pubblici. Per liberarci dal virus serve investire sulla ventilazione. Aprire le finestre, ricircoli d'aria. Ci sono oltre 277 milioni di casi nel mondo di Covid. Il calo dell'efficacia dei vaccini nel tempo ha spinto molti paesi a procedere con terze e quarte dosi, nel tentativo di proteggere non solo i più fragili e evitare i contagi anche tra vaccinati. Omicron fa paura perché si trasmette con molta velocità e molto contagiosa, sebbene o seppure le conseguenze sulla salute sembrerebbero essere più miti. E questo dicono grazie alla vasta platea di vaccinati. Ma nonostante questo, visto proprio la contagiosità di Omicron che si diffonde di più, su grandi numeri di contagiati naturalmente anche gli ospedali poi si riempiono. Moltissimi contagiati non sanno perché lo sono e le catene del contagio sono difficili da ricostruire ad eccezione degli eventi super diffusori, come cene natalizie, focolai scolastici. Beh, è ancora lungo adesso l'inverno, ovviamente, e si trascorre il tempo al chiuso, dove il virus, o come direbbe Di Maio il virus, si diffonde con grande facilità. Pertanto vaccini, lavaggio delle mani, distanziamento, mascherina. Queste sono le quattro indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Vaccino, lavaggio delle mani, distanziamento, mascherina. Si aggiunge la quinta, la ventilazione degli ambienti. Durante le epidemie medioevali, gli antichi dottori, sconosciuti ormai ai giorni nostri, negli antichi testi dicevano state fuori quando c'è un'epidemia, non state in casa, non state in casa. È nei luoghi al chiuso che si diffonde il virus, non all'aperto, o perlomeno all'aperto, le possibilità di contagiarsi sono molto, molto più basse. Addirittura si parla di mille volte di meno la possibilità di contagiarsi in giro. Ci si contagia in casa, principalmente in casa, al lavoro e sui mezzi pubblici. Per non parlare, vabbè, di cinema, discoteche, quelli sono proprio il massimo della trasmissibilità. E così arriva la quinta opzione, la ventilazione. Ed ora anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità punta a comunicarne l'importanza, invita tutti a non trascurare un'opportunità che potrebbe rivelarsi vincente per mitigare il rischio di infezione negli ambienti chiusi. Ma e come si fa a ventilare gli ambienti in pieno inverno? Beh, insomma, ci vorrebbero dei dispositivi. Quello che ha detto fino ad oggi Giorgia Meloni, la ventilazione meccanica, la ventilazione nelle scuole. Però ricordiamoci che non è così facile come dirlo. Adesso facciamo la ventilazione nelle scuole. Ma come nelle scuole? Già cade il soffitto. Sono scuole che sono dei primi del Novecento. Alcuni pavimenti sono già ondulati perché le scuole sono vecchie, c'è il rischio che crolla tutto, le finestre vecchie, i banchi vecchi. Adesso arriva la ventilazione. E chi la paga la ventilazione nelle scuole? Guardate che mettere degli impianti di ventilazione, anche economici, moltiplicati per tutte le scuole d'Italia, un paese indebitato come il nostro, che non ha i soldi per comprarsi un caffè, ma come fa a ventilare le scuole? Poi dopo che hai ventilato le scuole e le case che non sono ventilate e i cinema e tutto il resto, sono delle spese e delle cose così grandi economicamente che non sono fattibili. Non sono fattibili quasi da nessuno Stato, anche da quelli più ricchi, non possono mettersi a fare la ventilazione nelle scuole, perché il costo è a dir poco sconvolgente. Va bene come indicazione cercare di aerare il più possibile i locali. Certo che d'inverno, quando fuori c'è meno due, chi è che si mette ad aprire le finestre? C'è cena di Natale, adesso apro la porta finestra così entra un po' di freschino, con i pinguini, Babbo Natale con le renne, tu sei a tavola e ti prendi una congelata qua che t'ammali per i prossimi venti mesi. Ecco, capite che un po' questa storia della reazione per quanto giusta diventa un po'... Vabbè, d'estate c'è tutto aperto, la ventilazione diciamo è automatica, ma d'inverno che te ventili? Questo è il fatto, ecco. Pertanto, quando le persone sono nelle immediate vicinanze di una persona infetta, la trasmissione può avvenire per inalazione diretta e per deposizione delle particelle infettive sulle mucose esposte. In ambienti chiusi, poco ventilati o affollati, queste particelle infettive possono accumularsi nell'aria e venire inalate. Inoltre, l'aumentare della vicinanza con le persone contagiata aumenta anche la concentrazione di aerosol e di conseguenza del rischio di infezione. attualmente ci sono prove limitate sulla trasmissione attraverso superfici, oggetti o materiali che possono essere contaminati da virus come utensili e mobili. Nell'ambiente circostante la persona è infetta. Bene, abbiamo visto anche la quinta opzione dell'OMS che è giusta, ma ha tutti i suoi limiti economici di fattibilità. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie a tutti e a presto. Grazie a tutti.